Salve a tutti, sono l'amministratore delegato della Personal Factory SPA, mi chiamo Francesco Tassone. Quello che noi facciamo è una microfabbrica intelligente per la produzione di polveri per le delizie. Tutto quello che è un intonaco, un adesivo, una colla, eccetera, noi abbiamo sviluppato una tecnologia per produrlo in giro per il mondo con materie prime locali. Materie prime locali che nella maggior parte dei casi sono una semplice sabbia e cemento. Questo corrisponde al 98% del prodotto finito. Il 2% è dato da un compound chimico che poi noi vendiamo. Il sistema sta funzionando discretamente perché oggi siamo presenti in 5 continenti, soprattutto cominciamo ad essere presenti anche nelle isole in giro per il mondo e quindi siamo in realtà in crescita con società ormai in Sud America, in Russia, in Nord Africa e in altri posti. In realtà nel nostro caso l'essere in Calabria è stato un vantaggio tecnologico, un vantaggio competitivo perché vedevamo in prima persona cosa vuol dire la logistica e i problemi logistici. Questo ci ha permesso di sviluppare un sistema che semplifica di molto la logistica in paesi che hanno problematiche analoghe, che sono tutti i panelisti emergenti. Ha aiutato, cioè uno diventa più forte se vive nella difficoltà. L'idea è la parte più semplice di un progetto, quello che bisognava essere, bisogna essere principalmente estremamente ambiziosi. Per essere ambiziosi vuol dire che il prodotto non deve essere buono, deve essere eccellente, perché i competitor non devono essere locali ma sono mondiali. Questo vuol dire che oggi viviamo in un mondo in cui non è fare le cose un po' meglio del tuo vicino che ti porta ad avere successi internazionali.